Quattro, tre, due, uno, così, 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 con la doppietta di Bonny che oggi compie 35 anni, il regalo è tre punti verso l'Europa, vamo Siove, adesso ne manca uno, dai, Sio porco dai. Siove, fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, buona domenica, live reaction di Juventus Venezia, partiamo come sempre dalla formazione della Juve, due novità, avevo detto occhio a Miretti, e infatti Mister Allegri lancia il 2003 dal primo minuto, Paolo Di Bala parte dalla panchina. Riassumendo, ve la metto chiaramente in grafica, io ve la recito con un 4-3-3, ma potrebbe essere il solito 4-4-2 con il centrocampo storto e Rabiot sulla sinistra. Riassumendo, Scesni in porta, difesa con Danilo Bonucci, De Ligt, Pellegrini, a centrocampo Zaccaria, Miretti, Rabiot, in attacco Bernardeschi, Vlaovic e Alvaro Morata. Si va anche oggi nel lunch time match di Maia, poste italiane, è pronta chiaramente alle mie spalle, mi sposto in camera, viva Dio, perché la partita è su Sky, arriva il mitico Ale, la nostra personale live reaction di Juventus Venezia. Juventus Venezia, trentacinquesima serie a team live reaction, fino alla fine, vamos Juve! Dai, Jesu! Sono 35 anni oggi e anche da capite da no. Questa mattina. Odio Blavic. E porco due Zac! A sfruttare questa scorta forse non voluta da Blavic, perché cercava ancora il pallone e non osserva. Così, oh, se piglia la porta la scoglie. Guarda come l'ha bruciato lì. Bravissimo Zaccaria! Caccio mondo, ladro! Eh! Porco due! Bellegrini! Ma che lecca catirato! No! Bello! 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 Oh! Oh! Ma come cazzo si fa a non dare un rigore così? Cazzo! Cazzo! C'è colore, non ci sta un cazzo, Alessandro. Non c'è, non era abbastanza per dare un rigore alla Juve, quindi non era abbastanza. C'è! E allora si rimane con la causa di depurazione all'bottene. Mi rendi! All'altra parte direttamente... SIIIIIII! SIIIIIII! SIII! Sì, va bene, va bene Sì, oh mondo, oh sveglia, cazzarola, bello, ho girato per Miletti, attenzione, ancora Miletti Bravo Fabio, recupera, recupera, recupera Matais, recupera Grande Rabio, non è il retropassaggio, lo rompe i coglioni Guarda tu, guarda che stimo rischiato, guarda, porcaccio, due, oh Bello Porco, due Scio mondo Danilo Danilo Bonci Bernardeschi Bernardeschi Abio 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 Porco, due Un tempo se ne va, partiti molto bene, vantaggio, poi così e così Sì, vamo si dove, si io porco Secondo me il tocco alle nuove traducchine si continua a giocare Porco si io io Sto arrivando a colpo sicuro per colpire la purlone Miretti viene fermato, delicto, ne vinti Grazie anottere, vantaggio, più Grande task Nooo Che occasione A questo punto il Venezia Meriterebbe il pari Per quello che ha fatto vedere in questa ripresa Aramu Fiortirino lì vicino Alpato Riesa a servire per rispetto Aramu Ecco fatto Ecco fatto Alla fine arriva il pareggio Dopo Tante buone azioni da parte del Venezia Tanto possesso palla Praticamente sempre Dei giocatori ospiti E al terzo tentativo Era un forso più difficile La mette nell'angolo Pianciando benissimo dal limite dell'aria Che cazzo guarda Siamo fatto segno acquisto Che era un girone Che non c'è Porco zio ladro De stronzi Porco due Che simo guarda De stronzi Che simo Quindici dalla fine Il cross di Fabio Miretti Non esce qui Sì 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 L'espondo immediatamente La squadra di Allegri Quattro minuti Leonardo Monucci Manucci Manucci Dai Stai scudo pazzato dentro Mamma mia Che rischio Io non so se l'ha chiamata Sestri Perché a un certo punto De lì quasi si abbassa Così E due Uno Così 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 Con la doppietta di Bonni Che oggi compie 35 anni Il regalo E tre punti Verso l'Europa Mamma si dove Adesso ne manca uno Dai Si Porco dai